Sostenibilità oggi è un tema molto attivo per tutti quei soggetti che partecipano ovviamente ad Ecomondo, qual è la sua impressione? Chiaramente è un concetto estremamente importante che sempre più prenderà piede e si entra un po' sostenibilità e nel concetto di economia circolare, quindi recupero, riutilizzo e riduzione di consumi e si va verso la sostenibilità. Recuperare il calore dall'acqua, come è possibile? Una cosa che abbiamo fatto presso il depuratore di Nosedo è recuperare il calore dall'acqua di scarico, cioè le acque di scarico di qualsiasi città, anche nelle giornate più fredde d'inverno, hanno una temperatura che non scende sotto i 14 gradi. Attualmente nel dimensionamento dei nuovi impianti di riscaldamento e condizionamento delle abitazioni si usa parlare di geotermia, cioè prelevare dall'acqua dalla falda, togliergli calore e recuperare questo calore per riscaldamento. Bene, le acque di scarico depurate, già pagate dai cittadini, sono disponibili all'uscita di un impianto, quindi recuperare questo calore è come recuperare energie rinnovabili.